Quale risposta vuoi a quella serie? Non volevo fare musicista, non ci sono riuscito per acchiappare le ragazze. Il regista era la cosa più... purtroppo. Ho sempre pensato che... di dover comunicare attraverso i video. Anch'io prima, guardando un film, mi chiedevo come mai un registro e si è scelto di raccontare quella storia. In realtà, facendo un film, mi sono preso conto che il film che si fa in genere non è il film che tu avresti voluto fare, ma è il film che ti hanno permesso di fare. Io ho difficoltà a dire che il mio è un film di genere in realtà. È un film, perché secondo me il cinema è un'arte popolare, un film non è, secondo me, un prodotto artistico un prodotto di varie componenti artistiche, che è una cosa un po' diversa. Vedere la cinematografia e film cinematografie di genere e non di genere secondo me è un po' fuorviante. Shining è qualcosa di un film di genere. Il 2001 di Sinello Spazio è un film di genere. Cioè, nel senso, i grandi autori sono grandi autori. E nella Fatta Scienza, come dicevi tu, io sono stato molto contento di aver affrontato questo genere, perché ho potuto esagerare, dal certo tipo di vista, forse è questo che volevi intendere. Anche, per esempio, con le musiche, cosa che non mi sarei mai potuto permettere di fare con un film più realista, nonostante per essere un film di fantascienza un film di fantascienza che cerca di essere realista. Fondamentalmente, i film che non mi piacciono sono i film che non sono credibili. Cioè, che mi distaccano dall'empatia con i personaggi. Quindi, non adoro il film fantasy. Per me, adoro tutti i generi, ma la cosa importante è che siano film seri. Anche se sono film demenziali, ma devono essere seri. Io ero convinto. Cioè, non ce ne è più scemo, non è un film serio. Io l'adoro. E io, nel background, purtroppo, ho cose non italiane. Poi, ovviamente, essendo italiano, non posso fare altro che raccontarlo all'italiano. Ma penso che questo sia molto tra le righe di quello che faccio. Cioè, fondamentalmente, sì, sono italiano. Allora, potrei dire, faccio cinema anche meridionale. E no, pugliese. E no, barese. Cioè, se si va nel... E io ho voluto dire che... Ho voluto dare un accenno più o meno riuscito che si può parlare delle stesse tematiche, ma in un modo che non rimanga, appunto, non sia sempre ombelicale rispetto al motore. Il prossimo deve avere una spinta pop molto forte. Molto forte perché in questo film non mi sono potuto permettere di spingermi oltre. Nonostante poi alla fine, dopo tanto tempo, secondo me ce l'ho messa poi una certa... Però, comunque, a me piace una cosa ancora più... che si spingono verso il pubblico. Ma non rimanirà... Concependo il pop come un termine alto, ovviamente, non... Abbracciarsi tutti, atto psicomagico, funziona? No, non lo fare! Eccezionale di te. Tutti e tutti. Aiuta, aiuta. Funziona. Vi giuro, vi giuro. Non mi farei tarocchi, però. C'ho paura, Martina. No, 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 no. Fac무� Kombinica Altra Liarra Altra олнitanta Liarra Allora Bondro Worlds Grazie a tutti